video ricetta delle girelle allo speck ingredienti un rotolo di pasta sfoglia 100 grammi di speck 200 grammi di mozzarella per la pizza un uovo latte stendere la pasta sfoglia rettangolare coprire con uno strato di fette di speck tagliate sottili coprire ancora con uno strato di fette di mozzarella per la pizza tagliate molto sottili avvolgere su se stessa la pasta sfoglia fino a formare un rotolo tagliarlo a fette spesse circa 4 centimetri disporre le girelle in verticale su una teglia rivestita di carta forno spennellarle sia in superficie che lungo i bordi con l'uovo sbattuto assieme a un goccio di latte cuocere infine le girelle salate allo speck in forno ventilato a 180 gradi per circa 10 12 minuti